Come no? A me sembra proprio innovativa, sembra qualcosa di diverso Robin, bravo. Ecco, il brutto è che non c'hai niente da dire, questo è un problema grosso. Ma com'è che dopo tutti questi video ancora non sai bene cosa racconta la gente? Non c'è senso, scusa. Non è normale. Come mai ti succede così Robin? Che ti devo dire? Forse sto troppo vicino allo schermo. Poi mi fanno via le idee. Cioè ce l'avevo nella testa questa cosa che si elaborava? Poi dopo mi dicevo, ma dove stanno le quarta fortale? Poi quando ce le hai tutte belle che si sprazzano, tu dici ma... E allora se ce le hai tutte fortale? Non è gente che può capire quello che vuoi. Però poi mi dico, ma forse se uno ce l'ha... Allora magari gli tira un po' di qua, gli tira un po' di là. E un risultato lo vede, la relazione si forma, c'ha più crasti. Robin, è il contenuto che manca. Lo scrivono tutti lì nei commenti. Manca il contenuto. Parli dei valori, valori, valori... Poi dopo fai sti video, sti cazzate qua, sti stronzate, non dici niente. Che senso c'ha? Ma no, dici almeno dove andiamo a parare? Non lo so Robin, però... Che ci dici oggi? Perché il nastro finisce. Non è che puoi stare lì tutto il tempo a distronzate così come stiamo a fare adesso. Che ti posso dire di utile? Che ti fa la differenza? Sono... non è che sono a corto di idee. Che so proprio una sega. Perché per fare sti video ci vuole un sacco di disciplina. E io non sono stato disciplinato ieri. Sull'onda dell'euforia di aver fatto il video 92, 93, 94, 95. Ho detto vabbè ma il 96 ma che vuoi che sia una passeggiata? Cioè non fatti i 95. E oggi non mi sono preparato bene. E quindi se tu non te lo prepari bene quello che devi fare e poi dopo stai sempre in mezzo a un mare di onde che ti sballottano qua e là. E io sto pagando il petaggio adesso eh. Non ti credo che è divertente? Che non sai qua più che dire. Le ore passano. Ma Robin che problema c'è? Basta che dici una cosa... Ah! Illuminante! Prà! Che il video è fatto! Basta che la dici adesso no? Di una cosa illuminante. Eeeh... C'ho che ti dico che... E la morale della favola di oggi sai qual è? Che per fare cose bene domani le devi pensare il giorno prima. In pratica. Se tu il giorno prima non metti nero su bianco quello che vuoi fare domani e domani non sarai così preparato a farlo. Se domani voglio scrivere un libro, se domani voglio fare un video, se domani voglio fare un post, no che ah vabbè domani, domani quando arriva l'ora, allora lo faccio. No! Perché dopo sai che succede no domani quando tu arrivi allora che devi fare il post? Che sei lì, ok, sei stabilito, devi fare il post, ma oddio, mo che scrivo? Mo come lo faccio? Oh mi mancano tutte le idee, ah c'ho solo un'ora, eh... Giusto? Quindi, oggi, scrivi che domani a tale ora eccetera puoi fare il post, il capitolo, il video, quello che è. Però già scrivi adesso, ora, in questo momento, cosa ci vuoi scrivere dentro? Quali sono le domande alle quali vuoi rispondere? Qual è l'argomento chiave, i punti che vuoi toccare? Che sia un articolo, che sia un video, che sia un post, puoi fare un outline adesso. Così tu sei innanzitutto più tranquillo e sicuro. Due, Google interno, stanotte, sai come si diverte su sto Luna Park che sa che domani c'è questa roba? Brrrr, ti elabora 200 miliardi di cose possibili. Hai una meta precisa, hai già individuato i punti che devi toccare, non sei sotto pressione a mo' adesso che scrivo, quindi tutto va perfettamente come dovrebbe andare. Prevedere i singoli elementi, i passi che dovrai fare, così che il tuo corpo, la tua psiche, il tuo cervello, il tuo Google interno, possano prepararsi, organizzarsi. E quando arrivi che c'è da affrontare il nemico, Pazzo, sei pronto?